Vuoi sfidare Ronaldo? Già, perché da oggi PokerStat si dà la possibilità di sfidare proprio lui, il fenomeno. Come fare? È super easy. Hai presenti ChipTrix, giochini con le chips? Ecco, noi siamo alla ricerca del miglior chip trick italiano. Scegli la tua acrobazia con le chips e filmati durante l'esecuzione. Magari abbinala alla tua passione, io come vedi ho scelto l'aereo. Fatto? Bene, adesso carica il video sul tuo profilo Facebook e poi segnalaci l'indirizzo del video nell'applicazione che abbiamo creato apposta per te. Il tuo video entro 24 ore potrà essere votato da tutti i tuoi amici. A questo punto non ti resta altro che condividerlo sui social e dare inizio al passaparola. Cosa si vince? Beh, non vi potete davvero lamentare. L'autore del video più votato volerà l'IPT di Sanremo per sfidare Ronaldo in un tavolo con Dario Minieri e Luca Pagano. E non è tutto. Infatti, si vince anche un ticket per l'Italia Poker Tour. Mi raccomando, non è importante che il ChipTrix sia difficile, basta anche qualcosa di divertente. Mandaci il tuo video e ti aspettiamo a Sanremo con Ronaldo. Ciao!